Bello, qui sta? La mia pagina veniva considerata brutta. C'è una esperienza personale che poi è straordinariamente importante in questo giorno. Due anni fa poi ci hanno lasciato il 23 maggio del 92, che era un sabato. Avevamo preceduto quel sabato. Io insieme a tanti altri giovani, ragazzi, e tra tutti c'era anche Raffaele, e quello fu il sabato successivo fu il giorno.